bello a tutti ragazzi eccoci qua su gta 5 preparativi di colpa della pacific standard siamo in compagnia sempre di ciro sadbang e pq ant allora salutate salutate c'è anche il tts bot è vero c'è pure il bot allora dobbiamo fare il quarto preparativo la pacific standard il convoglio dirottato un convoglio a della meriwether a blaine county per recuperare le cariche termiche da usare sulle porte di sequenza pacific standard ok iniziamo ragazzi a bomba quindi ciro ci ha consigliato auto menacer e comunque vi ricordo che il video del colpo se siete abbonati lo trovate già già preparato al già pronto nel video per abbobbatti al canale che quindi se siete abbonati al canale potete già trovare il colpo quindi confermiamo chi manca sadman ok adesso faccio adesso faccio si boh non c'è adesso invitiamo tutti e colpo lì conferma dall'ultimo colpo tutti dall'ultimo colpo sadman vedi molto bene molto bene quindi appena entra sadman che ha accettato possiamo stavtare ok perfetto gioca ragazzi l'obiettivo secondario è far arrivare pq ant con il corpo alla pacific standard dal livello 100 è che potrebbe fare rango che buono mi serve sempre cento e nonno da me non c'è sempre nascer a me non c'è cosa sta facendo avvio sessione anche a me non c'è il video ma io vi vedo io ci sono ok perfetto via loro io metto questo sacchetto sacchetto di pane dobbiamo fare il posto di blocco questo è sul ponte vai andiamo che mi ruba il mio menacer e io ho la night shock piquant andiamo vai vai piquant ma dai ti ti sparo vai vai sei chilometri ok piquant vedi chi va più che va potenziato al massimo ancora di più il tuo api quanto dopo lento vai troppo veloce vai sbattere vai troppo lento e ci spingo va bene arrivo vai troppo lento sei chilometri con questo coso io sono già arrivato è buona peccato che non ha le armi eh se c'è per i missili è la buona no no e poi piquant anche se mi spingi non mi puoi spingere sto arrivando giro piquant è un camion pesante come lo vuoi far sbattere con quella macchinina potrebbe potrebbe però se mi incassero tra dei rock nomi di socio ma se non lo fermo un camion militare comunque ragazzi con quello che c'è perché c'è un elicottero che vola della polizia no un elicottero strano è quello lì che vanno agli eropolti ciao Sadman comunque diciamo che con quello che gli stiamo andando addosso con quello che abbiamo questo è Sadman sì cioè siamo proprio cattivi eh avete il fuccio della turbo no ho capito avete il fuccio il turbo ha detto vuole mettere il turbo al menossero hanno già messo no Sadman avete il cecchino il cecchino sì ce l'ho ce l'ho sia quello potente sì quello gigantesco ce l'ho perché servirà a quello no però è più buono perché dobbiamo uccidere un elicottero io sono la tattica perché arrivo un elicottero proprio corazzato con i missili vabbè dai sono arrivato io praticamente ma che è arrivato io sto volando eh eh vola vola ma poi vai a sbattere io volo piano io ho tagliato di qua io ho tagliato di qua ma sono uguale come il primo sbattere un po' chi va piano chi va piano può stare nel va lontano più quanto alla fine era l'inizio della primo vediamo un po' se riusciamo per esempio più quanto all'inizio della primo andata a sbattere no scherzo allora vediamo un po' quindi io passo di qua addio io passo di qua e quanti vini mi dividi ok allora più quanto qui c'è un veicolo ah ma tu sai dove hai messo gli scarichi sia a destra che a sinistra io l'ho messo solo a destra io dobbiamo bloccare più quanti vini sul ponte vedi dove si differenzia il tuo dal mio più quanto vai sul ponte no veramente ma dai ma che chidoni ecco vedete ragazzi un esempio di chidoni quando dico io non gioco a GTA perché tu ti metti tu non devi correre come un pazzo io non ero davanti devo arrivare a destinazione io sai com'è anche io anche noi non ero davanti no no tu non sali mi dispiace io ero sul ponte e ho appena ci sono saluti ma ancora come un pazzo stanno arrivando eh vi consiglio di vedi ragazzi se venite nella torretta se venite nella torretta facciamo sparare un attimo un attimo fermi fermi devo sparare l'elicottero ma avete la torretta del coso eh no perché è lontanissimo quindi uccido quello lontano e poi entro ecco fatto ovviamente ovviamente di qua non passano eh ovviamente oh infatti eccolo eccolo là il cabotero vai fuoco pecca sali dalla torretta sparagli colpito quasi fuori colpito di nuovo colpito colpito ok ricarico deve essere vai pecca senza pietà vai vai ok colpito 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 è esploso sudman fammi andare a me nella mitra vai sudman più più non sparmi ecco lì arrivano vai pecca senza pietà vai più 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 vai vai meno male e li sparo anche con la tanto si sprodono le macchine e fa niente guarda ma sudman non mi mettere davanti ma che è successo ragazzi ci era morto che cacchio è successo hanno sparato dalla mitra ma di nuovo no ma hanno sparato dalla mitra ero in prima fila ma Ciro perché non siamo sulla torretta sono sulla torretta ma non ci siamo perché a chi è fatto a morire hai 800 giubbotti sei livello un milione e mori no ma non ho tutti i giubbotti eh bravo livello un milione livello un milione ma si la saluta al massimo ha mille giubbotti vabbè capito è morto di mangoni è morto due volte è morto tra l'altro anche da una il primo ma siamo senza ma siamo senza macchine scommettiamo no no stanno accanto ah meno male ma se non c'erano rispettavo giuro io faccio il posto di blocco mi dispiace non ho niente il posto di blocco è utile però niente no no io non lo faccio no vado io qua togli togli no dimango col minuti anzi piccolo facciamo bisogna andarli piccola sali ma piccola aspetta bisogna andare qua fermo fermo ma piccola sali sulla trottetta abbia pensato se tu non guidi non lo capisci non si può almeno io sono entrato perché non si può ma non lo fa ma il mio personaggio è brutto quindi non lo fa di quanto non usano l'altro perché i missili fanno a spade del camion militare ma cosa ma cosa vuoi ma il camion militare non bisogna distruggerlo no lo dobbiamo portare ci stanno le cariche sta arrivando anche il convoglio ragazzi occhio dobbiamo distruggere vai ok menu interazione aperto giubbotti e snack a posto ma non mi possono uccidere sparate che non posso più io non posso nemmeno ok posto ok posso ok più 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 fatto fate fuoco ma stava a sparare ma stava a sparare quello col mitraglione sopra ci vuole tanto è quello che mi ha sciolto prima eh l'ho già ammazzato io appena arrivato vai 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 e va un po' più dietro Sadman vai vai Sadman qui quanto lei vati va un po' più dietro Sadman non riesco a beccare i chidoni se no qui quanto guida via vai palti 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 scappo però ci sono quei chidoni vai vai arrivano via 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 vabbè Sadman non mi aspetta palto da solo vabbè ma dove dovete andare eh devo farlo io capito ma cosa posso fare se è incasinato un po' copriamoli vai 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 ma Picant è morto ma dove sono ah qui davanti dimmi no io stavo guardando le macchine di là ma chi è che mi spara che mi lasera che che si deve fare una vita perché io non vedo un cacchio io di dove sono aspetatemi aspetatemi non è possibile no non posso Picant ragazzi guardate che Picant sì ma guardate che Picant è da solo ragazzi con i chidoni infatti io ho il nabbo lo sapete ragazzi volete fallire la missione Picant c'ha la torre dove c'ha tutti i veicoli dove è la torre me ne scappo con il menacer me ne scappo con il menacer ok li faccio fuori io bravo Picant uso il menacer elicottero 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 arrivò aspetta girati dietro adesso ok lo vedo lo vedo lo vedo arrivo credo che ho preso il menacer di Sadio perché va velocissimo no eh sì arrivo i cabotteri non ci danno problemi ma dobbiamo seminarli non dovremmo tipo andare nella montagna no seguiamo seguendo questa sera li perdiamo ho un altro cabottero aiuto porco schifo cacchio 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 a sparare la macchina e va sempre su e giù su e giù non vedo che non c'è impossibile sparare ma non mi spingono che siamo arrivati non mi spingono in grado di quanto come osi bravo salva ma ok sa puoi sparare siamo in strada o finalmente molto meglio adesso o vedi un cabotter già se non è nata a farsi benedire anche se in sospetta a ma non lo stiamo seminando ho capito guarda ho capito no non ho capito niente sto per morire non ho capito niente curate il film che non di suggerita botti non possiamo scappare spettaccio ho un'idea io se vi potevo di trasparadito sparavo san po sparare il pilota o dietro alle eliche di dietro che sono le cose più vulnerabili ecco andiamo nella galleria però non ci beccano qua i cabotteri li dobbiamo perdere ok veluzio piquant levati di mezzo vai lo stanno ok li abbiamo persi li abbiamo persi e come no ok via un elicottero a posto oltre al camion al punto di consegna 2 km ho fatto anche lo screenshot in caso serve bene bene sì sì c'era ok allora andiamo continuiamo ad andare avanti ragazzi si vai Edz ed Edz insomma Edz oh va bene all'inizio va bene all'inizio che mi sono fatto devastare la lasciamo stare allora ho preso la tua allora no io li scarichi a destra tutta a destra scusa perché questa va più veloce non va più veloce la mia va più veloce le ho messo il turbo le ho messo tutto al massimo ah ma io prima ho capito che quella di salva non le ha più veloce è più lenta quella di salva ma le hai messo il turbo no salva no perché ieri è arrivata a livello 100 io devo ancora mettere l'ultimo allora vedi la mia è più veloce io l'ho messo sulla mano ma in che senso aspetta turbo golf racing sì beh perché ah se dovete arrivare anche a livello 120 e poi potete stare tranquilli e che fai con 120 fai la minigun ah boom no è buona contro i juggerna eh vabbè anche la fabbrica vedo non è male la minigun un poco di più solo che la minigun spreca troppi colpi ok fatto dai entriamo nel garage entriamo nel garage edz 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 perfetto ma non ha guidato Sampo come eh c'è mia sorella lì vedi vediamo le medaglie ragazzi vediamo vittoria io bronzo no oh strano che non sono bronzo eh vedi eh gg sei bronzo male male ragazzi ironia allora ragazzi allora finisce qua questa puntata di di questo video dei ciao di gta ragazzi come sempre grazie mille di trovare il Instagram come sempre contatti iscrivetevi un piaccio e noi ragazzi vediamo prossimo video o barra live ragazzi ciao ringraziamo sempre Ciro Sadbang e Picquad ciao 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 ciao